Ed eccoci qua carissimi amici, in una giornata di un pazzesco Ferragosto ho portato i miei amici a fare un ritrovo davvero spaventoso. Vai Renato! Ciao amici, ciao, buon Ferragosto a tutti, oggi vi facciamo un regalo incredibile, incredibile, alfi che dico un regalo, due regali. Intanto abbiamo ospite eccezionali, il nostro amico Alessio Daviterdo. Ed eccoci qua, ragazzi finalmente Vintage, ci siamo conosciuti con il grande Renatore, scusate la mia videocamera è assente perché il posto è un po' scomodo caro Marvin. Ed eccoci qua, fantastico per Ferragosto, non la spiaggia di Rimini, ma una cosa. Incredibile amici, incredibile, guardate qua il regalo che ci ha fatto Roberta, grazie, grazie Roberta. Grazie Roberta per questo bellissimo Ferragosto che ci stai regalando, altro che mare, altro che mare, Coca-Cola, pancia al sole, melone, questo è il regalo, questo è il vero Vintage. Guardate amici, guardate, è incredibile, vai sulla targa Marvin, è incredibile, nel dicembre del 1971, sentite amici, respirate a pieni polmoni, questo è il vero Vintage. Ed eccoci qua, carissimi amici, lo dedichiamo anche agli amici appassionati di camion vintage, anche agli amici dell'Aite qua, che facciamo propaganda alla nostra associazione di camion storici. Ciao Roberto, ciao Roberto, cambiati, guarda che regalo di Ferragosto ti stiamo facendo, Teletress in diretta per voi, in diretta, incredibile, incredibile amici. Dove siamo arrivati, guarda Simona dove siamo arrivati, aspetta, oh, incredibile amici, amici, incredibile, la diretta di Teletress, Marvin non riesce neanche a parlare, no, incredibile. Renato, calma, calma, ti scoppia il cuore, ti scoppia il cuore Renato, dai che andiamo un po' sugli interni, andiamo sugli interni, purtroppo qua. Senti il profumo, senti il profumo del Vintage, annusa Marvin a pieni polmoni, il profumo del Vintage, guardate qua, guardate qua, sono nella cabina, ho preso una bella botta in testa, vabbè dai. Senti il profumo, il vero Vintage, guardate qua, guardate qua, cabina interna, sono qua nel lupetto, io ho già fatto quel filmato, però ho voluto aspettare te Renato. E' anche lì, amici, questo è il regalo di Ferragosto che vi fate lì Teletress in diretta, altro che il mare, ragazzi, guardate. Carissimi amici, per chi è interessato ci sarebbe questo lupetto, veramente eccezionale, tenuto anche bene, guardate qua, Renato dai, dai un... Fantastico amici, lupetto 25, targato 30, fine 1971, guardate che condizioni spettacolari amici, ringraziamo ancora Roberta, questo è un regalo bellissimo, grazie, stupendo. Buono! Vero Vintage amici, vero Vintage. Grazie, ora Renato, adesso possiamo chiudere qua, dai. Spettacolo, spettacolo amici, la diretta di Teletress, spettacolo. Hai parlato solo te, eh Renato, vabbè dai, vabbè dai, Ferragosto, ti ho fatto il regalo di Ferragosto, va bene, dai. Grande Marvin, per noi si è avverato il sogno, per noi si è avverato il sogno, vero Simo, che io ho iniziato per scherzo con il telefonino, e tutto si è avverato anche qui nelle zone di Ferragosto, tra le Doloriti. Ciao a tutti, voglio dedicare questo camion ai miei amici di Trax in Trentino, che giustamente è dedicato al trasporto in Trentino. Ciao a tutti! Ciao amici e grazie a Roberta, seguiteci sempre su Tele3 e grazie a Lessio e Simona, grazie.